Arrivano dall'Arizona, da Los Angeles, da Seattle e da Roma i protagonisti del premio circolo della stampa Pesaro 2024, tra i premiati nella cerimonia svoltasi mercoledì 19 giugno Ilaria Pascucci, astrofisica professoressa di scienze planetarie all'Università dell'Arizona e poi Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico e Marco Andreani, biologo, neopresidente della Fondazione Europea di Immunogenetica Un'attrice, un'astrofisica, un biologo e un top manager sono i destinatari dell'edizione numero 38 del riconoscimento riservato ai pesaresi di nascita, d'adozione, di origini e onorari che hanno conseguito particolari meriti, in questo caso in ambito scientifico, artistico e manageriale Sono davvero orgoglioso e felice di ricevere questo riconoscimento che il circolo della stampa di Pesaro ha voluto regalarmi quest'anno è un premio prestigioso perché è il riconoscimento di un'attività fatta per lunghi anni sia a Pesaro che a Roma che in altre città del mondo e mi fa piacere, sono molto davvero riconoscente a Elio Giuliani che ringrazia tutto il gruppo dei giornalisti Sono stata molto contenta di ricevere questo premio, ringrazio a tutti, è un grande onore è proprio un premio che c'è da molto tempo e molto importante quindi è un grande onore, grazie Voglio dedicare alla mia famiglia che mi ha sempre supportato in questa scelta che insomma non è stata una scelta facile Sono tornato nella terra degli avi per gentile richiesta per questo prestigioso premio per l'attività che svolgo, mi hanno detto così, di divulgazione scientifica in un periodo, in un'epoca che possiamo definire della comunicazione totale della informazione globale è quanto mai necessario fare comunicazione anche su temi scientifici perché i temi scientifici sono quelli trainanti avete sentito parlare ovviamente di intelligenza artificiale avete visto qual è stato l'impatto di internet sulle nostre vite beh il meglio deve ancora venire ci sono nuove tecnologie che adesso sono ancora confinate nei laboratori di ricerca e che si diffonderanno invece nella società e cambieranno la nostra vita più di quanto non abbia fatto internet i computer portatili o i telefonini cellulari Tra i premiati anche Anna Maria Alberghetti, soprano e attrice e Valeria Pascucci, top manager di Amazon il premio circolo della stampa Pesaro è patrocinato dal Ministero della Cultura dalla provincia di Pesaro Urbino, dal Comune di Pesaro e dall'Ordine dei giornalisti